Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Torneremo sulla polemica nata dopo il presidio di ieri dei sindacati. La UIL aveva attaccato l'amministrazione comunale per non essere presente al giorno di presidio davanti ai cancelli del petrochimico. Oggi è risposto il sindaco di Ferrara e sentiremo con che toni. Poi coronavirus si è registrato un boom di nuovi guariti e si spera che questo trend continui così anche nei prossimi giorni. Ma parlando di litorale e comacchiese sono state confermate le bandiere blu per i lidi di Comacchio. Ci sono delle novità però a livello regionale. Ma conosceremo anche il Memorial Endy Kayak presentato oggi a Vigarano. C'era anche Marta Bertoncelli, olimpionica, che abbiamo intervistato. Vedremo anche diversi appuntamenti che ci accompagneranno in questa settimana ma anche nel fine settimana. Però dobbiamo aprire purtroppo questa edizione con una notizia di cronaca. È della notizia della morte di un operaio di 36 anni che è deceduto dopo essere caduto da un ponteggio mentre stava smontando un'impalcatura in un cantiere a Ferrara. È successo tutto quanto. Poco dopo le ore 10, questa mattina in via Borgopunta, nel quartiere, nella prima periferia della città, l'uomo caduto dal quarto piano sarebbe morto sul colpo secondo i sanitari che sono intervenuti. Non hanno però potuto fare nulla se non constatare il decesso. Anche la polizia sul posto per i primi accertamenti. Ora sono in corso indagini per verificare appunto quanto è accaduto questa mattina. Ed è il secondo incidente sul lavoro in poche ore. Ieri ce n'è stato un altro a Ostellato in via Brunelleschi, nella ditta Remix, azienda che produce composti per ceramica. Qui un operaio di Comacchio di 41 anni è rimasto incastrato con il braccio sinistro in un macchinario. È da un giorno ormai in prognosi riservata e secondo i sanitari rischia l'amputazione dell'arto. Quindi in due giorni un incidente mortale sul lavoro, è un grave incidente ieri nel Ferrarese, in città e in provincia. Ferrara purtroppo ha vissuto un'altra tragedia. Ieri alle 12.30 in Rampari di San Rocco a Ferrara in direzione Medaglie d'Oro all'incrocio con Fossato di Mortara, un imprenditore di 62 anni, Alberto Grande, è deceduto in seguito alle ferite riportate. Nell'incidente che lo ha visto coinvolto con la sua moto, secondo gli accertamenti in corso da parte della polizia locale di Ferrara, l'uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo immediato all'intervento dei soccorsi. E poi la corsia in ospedale dove i sanitari non hanno però potuto fare nulla per salvargli la vita. E a metà pomeriggio il 62enne è deceduto. Anche qui c'è un'inchiesta in corso, è stata risposta l'autopsia, ma dai primi accertamenti sembrerebbe appunto che abbia fatto tutto da solo mentre si trovava sulla sua moto. Cambiamo adesso completamente argomento. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, ha replicato al segretario generale della UIL che ieri durante lo sciopero davanti al petrolchimico aveva criticato l'assenza del primo cittadino e della giunta, non partecipo a manifestazioni indette da alcuni sindacalisti politicizzati, ha detto il sindaco che in un post su Facebook ha elencato le iniziative del comune per il petrolchimico. Sentiamo. Massimo Zanirato non porta soluzione ma preferisce solo attaccare me e l'amministrazione offendendo anche il lavoro degli assessori e per non scivolare al suo stesso livello non risponderò alle beccele strumentalizzazioni che possiamo ascoltare nel video, ma al tempo stesso voglio ricordare cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo come amministrazione per salvaguardare i posti di lavoro in città. Arriva a stretto giro di post su Facebook la replica del sindaco di Ferrara, Alan Fabri, al segretario generale della UIL di Ferrara, Massimo Zanirato. Il numero uno dell'organizzazione sindacale di Via Oroboni aveva criticato il primo cittadino e l'attuale amministrazione comunale, Rei, di non aver presenziato lunedì 9 maggio davanti al petrolchimico di Ferrara in occasione dello sciopero proclamato da CGL Will contro la chiusura del cracking di Marghera. Così il sindaco di Ferrara in un post riassume il lavoro portato avanti negli scorsi mesi. A partire da dicembre con gli incontri dedicati al tema della chimica ferrarese e poi l'avvio di un tavolo tecnico per l'efficientamento energetico del polo chimico con il comune di Ferrara Capofila insieme a provincia, regione, università e con la partecipazione di tutte le società che lavorano nel polo. E poi ancora, continua Fabri, l'inserimento delle aree del petrolchimico in un piano di rilancio che prevede sgravi fiscali e semplificazioni burocratiche per rendere competitiva l'area a livello nazionale per attirare nuovi investimenti e rivendica gli obiettivi raggiunti nella trattativa celanese trovando l'accordo con la Benvic. Io sono solidale con i lavoratori del petrolchimico che sono legittimamente preoccupati per il loro posto di lavoro sottolinea il sindaco ma attraverso uscite scomposte come quella di Zanirato non si raggiunge alcun risultato, continua il sindaco, la situazione sul cracking di Marghera è complessa e noi come comune stiamo lavorando a più livelli, continua il primo cittadino di Ferrara sottolineando il dialogo instaurato con l'assessore regionale Vincenzo Colla che ci tiene, dice, costantemente aggiornati sul lavoro della regione con il governo centrale. Sempre nel post, Alan Fabri definisce atteggiamento costruttivo quello della Cisla di Ferrara che non ha invece aderito allo sciopero. La Cisla se ne è ben guardata dall'aderire a questo evento sottolinea Fabri perché sta cercando un dialogo continuo evitando sterili polemiche che rischiano solo di creare ancora più ostacoli in un percorso già complesso per garantire il futuro del petrolchimico, conclude il sindaco di Ferrara nel suo post. Ancora cronaca e parliamo dei 71 casi di violenze in famiglia in cui in questi primi mesi del 2022 la volante di Ferrara è intervenuta e attivata il protocollo EVA, esame violenze agite. Questo è il fenomeno preoccupante. Al centro questa mattina dell'incontro in Salle Stense a Ferrara, un convegno formativo promosso dalla Questura è rivolto a tutti gli appartenenti delle forze di Polizia del territorio con l'intervento degli esperti. Le immagini che vedete sono stati messe in scena da allievi del centro professionale Città del Ragazzo di Ferrara, diretti dal professor Massimiliano Piva. Infatti i lavori che vedete sono stati preceduti da questa rappresentazione teatrale. Il dibattito è stato moderato da Dario Virgili, dirigente della squadra mobile della Questura di Ferrara, con la partecipazione di Ombretta Volta, che è sostituto procuratore della Repubblica e tra i partecipanti c'era anche Paola Castagnotto del centro Donne Giustizia e Michele Poli del centro Uomini Maltrattanti. Questo quindi è un fenomeno preoccupante di cui torneremo a parlare. E adesso però dobbiamo parlare di coronavirus, perché si registra un vero e proprio boom di nuovi guariti, quasi 400 in 24 ore nel ferrarese, dove nello stesso arco di tempo si registrano solo 82 positivi, su un numero comunque considerevole di tamponi. E fortunatamente non si registra nessun decesso. Al momento la pressione ospedaliera non cala, ma ricostruiamo tutti i dati del bollettino nel servizio. 395 nuovi guariti, 82 nuovi positivi e nessun decesso. E questo quanto è emerso dall'ultimo bollettino Covid riguardo al territorio ferrarese. Pressione ospedaliera stabile, 61 i posti occupati a Cona, 35 al Delta e 4 le persone ricoverate a 100. In Emilia-Romagna sono più di 3.400 nuovi guariti, oltre 2.100 nuovi casi, mentre si registrano 18 nuovi decessi a livello regionale. A livello di ricoveri in regione cresce leggermente la pressione sulle terapie intensive, mentre diminuisce sugli altri reparti ordinari. Capitolo vaccini nel ferrarese, 164 le dosi somministrate lunedì, che hanno fatto salire a quasi 222.000 le terze dosi totali e quasi 4.300 le quarte dosi. Ancora a Sanità, l'infermire di famiglia e di comunità è attivo da qualche settimana anche a Bondeno e oggi è stato presentato il progetto ufficialmente sul territorio con l'obiettivo, l'infermire di comunità e di famiglia ha l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per la salute della comunità matildea nella direzione di un'assistenza sempre più proattiva e vicina al paziente sul territorio. Queste le vedete le infermiere, tutto questo è stato detto questa mattina durante la presentazione del nuovo servizio già operativo da dicembre 2021 con un progetto pilota partito a Ferrara e poi a Mesola, Goro e Punto Bondeno e anche 100 località rinocentese ma anche a Fiscaglia ora è presente su tutti e tre i distretti e svolge appunto il ruolo assistenziale in particolare nell'ambito dei nuclei familiari sia a domicilio del paziente sia in ambulatorio o nelle strutture intermedie di lungodegenza in cui viene ricoverato. Qui vedete anche il sindaco Simone Saletti e tutte le persone che erano presenti oggi alla conferenza in cui è stata ufficializzata questa figura. E rimaniamo in provincia di Ferrara dove passano da 7 a 9 le località della costa Emiliano-Romagnola che hanno tenuto la bandiera blu per il 2022, tra queste è confermata anche Comacchio appunto. Sentiamo. Comacchio conferma la bandiera blu per l'anno 2022. Il riconoscimento alle località riverasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili è stato assegnato dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale, ONG Internazionale, con sede in Danimarca. La conferma in Emilia-Romagna arriva anche per Cattolica, Misano Adriatico, Bellari e Gea Marina, Ravenna, Cervi e Cesenatico. Ci sono tuttavia due novità che portano da 7 a 9 le località della nostra regione insignite della bandiera blu, Riccione e San Mauro Pascoli. Complessivamente a livello nazionale sono 14 nuovi ingressi. Alba Adriatica in Abruzzo, Caulogna e Isola di Caporizzuto in Calabria, Ispani in Campagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobbio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furcisiculo in Sicilia e Pietrasante in Toscana, oltre le già citate Riccione e San Mauro Pascoli. Non sono stati confermati quest'anno San Mauro Cilento e Sapri in Campagna, Ventotene nel Lazio, le isole Tremiti e Otranto in Puglia. E rimaniamo in provincia di Ferrara, è stato presentato questa mattina il Memorial Andy Kayak, evento dedicato alla paracanoa in un weekend di sport inclusivo. Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio, il Canoa Club Ferrara ospita presso l'oasi di Vigrano Pieve il Memorial Andy Kayak, a 30 anni dal primo campionato di paracanoa nel nostro territorio. L'evento inclusivo di sport è stato presentato alla presenza delle istituzioni, dei partner dell'iniziativa e del presidente del Canoa Club Ferrara, Mauro Borghi. Questa iniziativa nasse, come ha detto lei, è il Memorial del trentennale dei primi campionati italiani in Italia della paracanoa. Allora si chiamavano campionati italiani Andy Kayak, dove partecipavano solo gli atleti paraplegici. È chiaro che è ovvio quella canoa che non c'è l'utilizzo delle gambe, tronco e braccia gli atleti sono normalmente sempre allenati nel spingere la carrozzina e quindi 30 anni fa esattamente è stato fatto il primo campionato italiano nella Darsena di San Paolo a Ferrara. A distanza di 30 anni l'obiettivo che abbiamo raggiunto, che nel frattempo ne abbiamo fatti altri 15, perché facevamo un anno sì, un anno no, altri 15 campionati italiani sempre nella Darsena di San Paolo, Il traguardo che abbiamo raggiunto è che abbiamo portato la paracanoa come disciplina paralimpica a Tokyo e per la prima volta siamo giustiti anche a portare a casa il bronzo con Federico Mancarella, che è un nostro canoista amico di Bologna. Sport e arte per superare la disabilità, con diverse iniziative, tra cui la Straccarrozzina 2022, che si terrà domenica mattina in collaborazione con WISP Ferrara e Comitato Ferrarese Area Disabili. Tre giorni esposti dalle autorità presenti alla conferenza, il sindaco di Ferrara Alan Fabri, il sindaco di Vigarano Mainard Davide Bergamini e l'assessore allo sport del comune di Ferrara Andrea Maggi. Siamo felicissimi di ospitare questa manifestazione sul territorio di Vigarano, abbiamo patrocinato come comune appunto questa iniziativa che nasce dal Canoa Club, quindi ringrazio anche Mauro Borghi per aver organizzato insieme al Canoa Club questi tre giorni bellissimi. È a mio parere un messaggio molto bello che deve arrivare a tutti, quello dove lo sport va ad unire, va ad eliminare quelle barriere che spesso chi vive una disabilità spesso trova sui territori. Lo sport, mi piace ricordarlo, significa tante cose, significa formazione per i ragazzi, significa attività agonistica, ma significa anche che si deve lavorare per un obiettivo a prescindere dal proprio grado di abilità, quindi sarà una tre giorni, come dire, piacevole perché è un bel compleanno anche. E presente alla conferenza del Memorial c'era anche l'olimpionica Marta Bertoncelli che proprio a Vigarano ha mosso i suoi primi passi della sua carriera sportiva, lo sport è inclusione e arricchimento umano, ha dichiarato ai nostri microfoni. Siamo con Marta Bertoncelli, Marta che torna a casa in qualche modo qui al Canoa Club, allora partiamo proprio da questo, insomma il tuo legame con questo territorio e quindi vederlo anche oggi, insomma, in questa conferenza stampa. Sì, per me è sempre un piacere poter tornare appena posso e appena qualche giorno sono subito a casa perché per quanto io possa aver visto davvero tante parti del mondo, anche per la mia giovane età, tornare a casa è sempre una ricarica di energie e soprattutto venire in questo posto dove oltre ad essere cresciuta, che sono qua da quando praticamente sono nata, dove mio papà mi ha fatto andare in Canoa per la prima volta, sono cresciuta e ho fatto le mie prime esperienze, e quindi racchiude in poco spazio tanta tanta energia e tanta tanta pace che appunto che ogni volta torno qua per ricaricare le energie per le prossime gare e i prossimi eventi. Allora, visto che stai ricaricando le energie, ripercorriamo le ultime esperienze, Tokyo ma anche altre iniziative, insomma, di cui è stata protagonista. Ecco, che stagione è stata l'ultima? È particolare, è stata molto particolare perché noi siamo partiti con un progetto che era a Parigi 2024 e poi è andato tutto veramente molto bene e tante cose si sono combinate insieme per le quali sono riuscita ad arrivare a Tokyo. È stata un'esperienza indescrivibile, cioè entrare in questo mondo che è praticamente un universo parallelo e davvero arricchirmi non solo come atleta ma anche a livello umano, e quindi sono molto felice, insomma, è stata una stagione un po' particolare dove quello, diciamo, era il centro di tutto e diciamo lasciando un po' indietro tutti i più piccoli, che in quel momento sembravano più piccoli, obiettivi e quindi è stato un bagaglio di esperienza che mi porterò sempre in giro con me per arrivare a Parigi e aspirare a qualcosa di più che una semifinale. Allora, noi ti auguriamo il meglio ovviamente, però per finire Marta, nella conferenza di oggi si parla proprio di sport, anche inteso come inclusione, socialità, che cosa possiamo dire di questo? Per te comunque è stato anche un modo per socializzare, per includerti, per conoscere anche tante persone, immagino. Sì, veramente, mio papà Luca Bertoncelli era il presidente del Canoa Club Ferrara ed è sempre stato oltre a un gran esempio per me perché cercava nel suo piccolo di poter includere più persone possibili, da disabili a non disabili e cercare di unirle insieme in un posto magico che ora in parte è l'Oasi. Quindi per me è sempre stato lo sport, oltre che a un percorso di vita, anche il poter conoscere altre persone, poter condividere, trovare persone che magari non vengono dal tuo stesso posto, col tuo passato un po' diverso dal proprio e riuscire a crescere insieme, a condividere ciò che ci è scoperto e a affrontare le prossime avventure con qualcosa in più nel bagaglio. E quindi per me sport vuol dire proprio questo, no? Oltre che a poter ovviamente arricchire le proprie medaglie magari appese a un muro, arricchirsi anche a livello umano per poter conoscere più cose possibile e poter fare il più bene possibile alle altre persone. E nemmeno il meteo incerto ha affermato le bimbe e i bambini che domenica mattina hanno pedalato a Bimbin Bici la manifestazione dedicata ai piccoli ciclisti organizzata dalla FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Promuovere l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano per favorire la mobilità attiva e l'ambiente e migliorare la sicurezza dei bambini sulle strade. Bimbin Bici, la manifestazione a marchio FIAB dedicata ai piccoli ciclisti e arrivata alla ventitresima edizione si è tenuta domenica 8 maggio nelle vie centrali di Ferrara. Partenza da Porta Paola e arrivo al Parco Coletta ai piedi del Grattacielo. Soste al Parco Pareschi e a Porta d'Amore per fare merenda e ascoltare le favole di Teresa Fregola e Nicola Canale e l'intrattenimento dei clown di Vola nel Cuore che hanno distribuito palloncini rossi a forma di cuore. Siamo alla manifestazione Bimbin Bici, bambini ce ne sono tanti siamo in compagnia di tutti i volontari di FIAB abbiamo il gazebo di Decaton che ci ha accompagnato ma soprattutto abbiamo anche i volontari di Vola nel Cuore che ci stanno dando una mano ad animare la manifestazione, l'evento. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Ferrara in collaborazione con la Polizia Locale è patrocinata anche dal Ministero dell'Istruzione dal Ministero della Transizione Ecologica, dal Lanci e dalla Società Italiana di Pediatria. A proposito di appuntamenti, nel weekend si terrà la prima edizione di Rinascimenti nel segno dei fasti degli estensi ed è un'iniziativa legata al Paglio di Ferrara. Revocazioni storiche, scene rinascimentali nel cuore della città, danzatrici, arcieri ma anche ricostruzione di antichi campi militari oltre ad attività didattiche, specialità enogastronomiche storiche poi maschere d'epoca, giullari, musici, salti in banco piatti tipici direttamente dal ricettario di Messis Bugo e la chiusura con la musica rinascimentale a Palazzo Schifanoia 21, le compagnie e gli artisti in campo da sei regioni Tutto questo è la prima edizione di Rinascimenti la prima volta del nuovo festival sarà nel prossimo fine settimana e Ferrara si appresta ad ospitare questa novità L'evento è stato presentato martedì mattina in comune l'apertura dei campi militari ricostruiti su base storica sarà in piazza Trento Trieste ed è prevista per le ore 20 di venerdì 13 maggio Con questo è tutto, prima di salutarci questa sera alle ore 22 vi ricordo l'appuntamento con il processo al Gran Premio condotto in studio da Veronique Blasi il Gran Premio di Miami sarà al centro della puntata ma anche tutto quello che riguarda il motorsport di questi ultimi giorni Con questo appuntamento televisivo è tutto io vi ringrazio e vi auguro una buona serata Grazie a tutti